È terminato l'incontro in Abbi per il rinnovo del contratto nazionale del credito, mai così lontani ma la trattativa prosegue. Sì, come avevamo previsto Abbi ci ha consegnato oggi un documento illustrativo che è integrativo di quello già consegnato nel mese di giugno per quanto riguarda le risposte al contratto nazionale. Devo dire subito che si tratta di un documento che va a destrutturare in maniera molto forte e ampia il contratto nazionale del lavoro che va a privilegiare in parte la contrattazione aziendale, certamente tutto è inerente al contenimento del costo del lavoro. Tutte le materie, su tutti i punti c'è il contenimento del costo del lavoro, c'è una riduzione del costo del personale. L'unico obiettivo di Abbi in questo momento, l'abbiamo capito molto bene, è quello di contenere il costo del lavoro. Ma quali sono punto per punto le richieste dell'Abi? L'Abi ha concentrato le risposte sui punti che noi ci aspettavamo. Per quanto riguarda la parte economica ci ha detto che secondo i loro conti, e già nell'altra nostra dichiarazione, dicevamo che eravamo perplessi su questa posizione del calcolo dell'inflazione dell'Abi e oggi ce l'ha dimostrato. Abbi considera un'inflazione pari allo 0,1 nel secondo semestre del 2014, l'1,3 nel 2015, l'1,5 nel 2016 e lo 0,8 nel primo semestre del 2017. Fa uno strano conteggio che dice che siccome abbiamo percepito troppi soldi nell'altro contratto, ci toglie l'1,85. Quindi dal 3,70 che è la somma delle cifre elencate, ci rimarrebbe l'1,85 che non verrebbe dato subito ai lavoratori, ma nel proseguo della contrazione. Inoltre chiede tutta una serie di rivisitazione della parte economica e normativa. Da una parte chiede il contenimento del costo per quanto riguarda il TFR, quindi un sistema di calcolo meno avvantaggio dei lavoratori. Ci chiede l'abolizione completa di tutti gli automatismi, ci chiede il congelamento degli scatti e dei gradi, ci chiede il congelamento e la ridivisione di tutte le indennità di rischio e tutte le varie indennità apicali che abbiamo nel settore, fino ad arrivare al comporto, alla trasferta e perfino alle festività soppresse. Per quanto riguarda l'area contrattuale, a differenza della nostra richiesta, che era quella di restringere la possibilità degli appalti e dell'esternizzazione, l'AVI propone un ampiamento di questa possibilità e quindi di maggiore esternizzazione e di maggiore appalti. Per quanto riguarda gli inquadramenti, l'AVI propone di passare dalle attuali 4 aree, 13 livelli e dai 40% dei quadri che noi oggi abbiamo nel nostro sistema, di passare a una classificazione a 6 livelli retributivi, dando naturalmente tutto il peso sui quadri, usando la massima fungibilità all'interno dei quadri, eliminando i ruoli chiave. E in più ha posto anche sul tappeto, senza specificarlo bene, però anche una riformulazione della stessa formazione. Per quanto riguarda l'occupazione, è la parte dove c'è più vicinanza fra noi e la controparte, perché c'è l'uso del FOC, cioè il fondo per l'occupazione e del fondo che è stato provato e già firmato in questi giorni, quindi per arrivare a una maggiore presenza per quanto riguarda anche il collegamento tra le domande, l'offerta, per quanto riguarda il lavoro, ma soprattutto per quanto riguarda la solidarietà esponsiva, una materia che noi avevamo già richiesto da tanto tempo. E poi, in dulcis in fondo, la questione dell'orario di lavoro. Distrutturazione completa della normativa, degli articoli che sono oggi compresi nel contratto nazionale sull'orario di lavoro, per lasciarli a livello aziendale. E la posizione della WIC qual è a riguardo? La posizione della WIC, io l'ho espresso esattamente al tavolo, dicendo che probabilmente negli anni passati, a proposizione del genere, avremmo interrotto immediatamente la trattiva. Oggi ci rendiamo conto che la situazione del Paese, l'economica del Paese, la situazione delle banche è diversa e quindi noi non possiamo oggi rompere così immediatamente le trattive. Però è chiaro che valuteremo fin dal prossimo incontro, e abbiamo preso atto che queste sono posizioni di partenza dell'ABI, ma è chiaro che se queste posizioni continueranno, non si potrà che arrivare a una rottura clamorosa per quanto riguarda le trattive. Io credo che invece bisognerebbe che l'ABI ritirasse queste posizioni, ripartisse da posizioni dove potrebbe affrontare le problematiche che ci sono e siamo disponibili ad affrontarle. L'abbiamo detto nella nostra piattaforma, la nostra piattaforma, lo ripeto per l'ennesima volta, è ancora il faro guida di questa avvertenza. Non ci muoveremo dalla piattaforma se non in posizioni in alternativa a proposte che ABI ci farà, ma dovranno essere posizioni chiare e precise. Noi non ci stiamo a questo ricatto, a questo gioco del contenimento del costo del lavoro a tutti i costi. Noi vogliamo discutere di una piattaforma che vada a vantaggio delle lavoratrici, dei lavoratori, che sia il riconoscimento del lavoro fatto dai nostri colleghi in questi anni. Su questo ci batteremo e su questo risponderemo. Un'ultima domanda. Alessandro Profumo a un certo punto ha parlato di sistema bancario che è un settore composto da banchi in concorrenza tra di loro. Qual è la tua opinione a riguardo? Beh, io d'altra parte lo capisco, ma questa è una rivoluzione. Stiamo assistendo a qualcosa di rivoluzionario. L'ABI che dichiara che non c'è più un sistema bancario, ma un settore. Nel senso che ogni banca diventerà grandissima concorrente dell'altra. Ecco perché c'è questo rimando delle materie contrattuali a livello aziendale. E questa è una grande rivoluzione. Dovemo prendere atto di questo. L'ABI quindi dovrebbe fare, come fa un po' Confindustria oggi, il trade union fra le varie aziende, ma che sono in netta concorrenza fra di loro. L'ultimo appello che lancio è questo. Se questa sarà la strada, il sindacato, i lavoratori, le lavoratrici dovranno prepararsi perché sarà un cambiamento ipocale in banca. E anche il sindacato dovrà cambiare perché dovrà ricercare strumenti di rappresentanza diversi da quelli attuali. Ci rivediamo il 5 novembre al termine del prossimo incontro. Grazie. Grazie.